Siamo Maurizio Rezzani, direttore del risultato e sviluppo di Lamborghini e ora ti presento al nuovo Huracan Lamborghini 610-4 Iniziamo dal motore che è l'errore della nostra carica Abbiamo un motore V10 5.2 litri naturalmente che potrà aerogare 610 horsepower e un grande aumento del torque di 5.000 a 8.000 rpm Inoltre con il motore c'è una nuova Lamborghini doppia frizione che è la prima introduzione del doppio claccio di Lamborghini che con la 7-speed permette ai nostri driver di ottenere tutte le esperienze da un'attività di comforza a una attività più extrema Per quanto riguarda il sistema 4-wheel drive abbiamo una nuova generazione Aldex 4 che potrà trasferire via l'elettronica e l'hydraulica con la gestione del 50% del torque in fronte e arrivano al massimo del 100% in fronte Ciò che è importante è anche quello che abbiamo fatto nella suspensione per la prima volta abbiamo il sistema Magneride nella suspensione e questo è compilato con il controllo adattivo che è la prima usata nel super sport car del mondo tutto questo è gestito e gestito da una piattaforma inerziale è un sistema completamente nuovo che ha posizionato 3 accelerometri e 3 giroscopi in centro della gravità può gestire tutto il movimento del car e per dare in real-time via flex rail tutte le informazioni a questo sistema ma ciò che è importante è anche la struttura del car e per questa settimana abbiamo fatto un nuovo chassi completamente nuovo che è una migliore migliore tra la fibra carbonica e l'aluminio dove mettiamo il materiale giusto nel giro giusto per ottenere un aumento di torsional di un aumento di 50% comparato con il precedente Gallardo con una riduzione di 10% del peso l'altro uso importante del car è relato alla interfase humana è l'interior del car dove abbiamo una nuova steering wheel che abbiamo completamente re-engineerato basato sulle esperienze neurologiche e una nuova TFT 12.3 inch configurabile combi che i clienti possono usare per mettere ciò che è necessario da un grande odometro a un mix tra un piccolo odometro e una informazione di Navi o una informazione di full screen dove puoi capire tutte le mapi della città e le informazioni più dettagli e alla fine questo mix ha dato un nuovo benchmark per una super sport con un'accelerazione di 0.100 in 3.2 secondi e la velocità di 325 km per l'ora